hai montato mmm hai montato, hai montato ah ah come li ha fatto ah ah poltergeist un poltergeist un poltergeist un poltergeist ah ma questi non so pavimenti però che si muovono so persone che muovono le cose io mi aspettavo le sedie montaggi su oh ah che cazzo guardalo guardalo ammuzzicato adesso ma avete maniato? io si tre giorni fa tre giorni fa no si scherza ho baggiato buoni noodles si noodles che sta succedendo qua? che sei baggiato il tizio? non moriva più che sono questi cinesi? ergalina ergalina ah bambini addirittura è golana è golana oh cazzo si ma che combo per cento ha modato a combo per cento ma cazzo faccio mi piace non mi da le cacci di cosa ora non mi dà le cacci di cosa vabbè ma come fai a fare la combo per 100 centada? Scena perfetta proprio infatti ma come fa la combo per... che cazzo fa quello? eh se nessuna sopra capiamolo, capiamolo! oh che è quello? sconfiggi il capo per l'ultimo c'è e non la fa... fa la sola per i modati oh ma che è? ma poi ci saltano come coglioni? ma come fanno a saltare cosi? madonna! cosa sta succedendo qua? a rimottarci su, ma dove sto cazzo? ma che è cazzo? ma dove cazzo sto picchiando io? che sto cà? dove ha picchiato qualcuno? ma non mi fa neanche attivare cosi? adesso non mi ha fatto attivare ma non mi fa neanche attivare cosi? adesso non mi ha fatto attivare no ma non mi ha fatto attivare ma non mi ha fatto attivare cosi? dove è il mio? si vedeva neanche oh cazzo oh cazzo è la tua paura ma non mi ha fatto attivare non so di questa cosa ora adesso mi trovo e bocca hai paura che la prima gara non certo, conti ce n'era dietro che troia tieni questo ah zio fester processiamo ma questo c'è anche il bambino che come Ethel devo eliminare Belf ligeggio scusate guarda dietro non ho fatto meglio è 6,2 ecco prima non va non va ma tutto grazie guarda che hai fatto nel centro e la due o quattro e la due o quattro e ora è cammino piccato eh allora non sento niente ah si colpa di gli offelli non vanno in là si è garantito che non sono più gli stessi bis ah c'è io sento più luco andro? no non sento l'ultimo ah tanto amolbrato ah perchè non senti? eh non lo so sono 20 minuti per più un po' di là boh si capisce un calcio ah già è finito di cavolo faccia su no vabbè a 50 a sfida 81 89 dio mmm che cazzo è andata perché l'ho visto questo cazzo